E le parole Ministro e Gerardi per noi non esistono in più. D'ora in poi per noi l'ostaggio si chiama l'arena. Che cazzo è questo? Buonasera, eh. Ma che avete fatto? Poi avete rapito? Le domande qua le facciamo noi. Nome, cognome e professione. Giuseppe Stella, sottoseguitario. Io volevo Gerardo. E guarda che mi chiamo persone estetiste là dentro, eh. Che avete fatto? Chi è questa? Chi è? Che è sto chiasso? Chi è questo? Il padrone del covo? Non ti fa più che te. Ti ho lasciato la carbolare. Grazie. C'è una rivendicazione. Sei stato te? Ma sei scemo. Ma chi si è scritto a questi boiari qua? Non ti ci devi impicciare. Muori! Mi ha visto in faccia. Dobbiamo trovare un'altra sistemazione. Chi è questo? È il custode del palazzo. E lui è? È il mio fidanzato. È brutto. Ha parlato Marlon Brando. Andiamo, guarda. Scusi. Alla mano un po' d'acqua. Pronta la colazione. Ma taglio la colazione. Scusa, stava a fare la spremuta. Ti sei innamorato, eh. Ma no, ma sono innamorato. Pronto? Casa Stella. Siamo qua. Dov'è che sei? Sono Giampi. Tu mi riconosci? Amore mio, amore. Amore mio, amore. Non ti muovere! Non ti muovere! Tutto a diga! Sono io, sono io! Non ti muovere! Ma che fai? Ma sei completamente scemo! Lo so, emotivo. Non sembra, però. La vuole una cosa calda? Che ci faccio con la cosa calda? Io la faccio, la risana al finocchio?